Ciao a tutti i Smizing del Web, io sono sempre Zosser ed eccoci qui di nuovo su Magica con il secondo episodio, il capitolo 2, l'attacco dei Gobbi. Qui con me ci sono Cremo, e Master of Puppets. Bella! Vabbè ragazzi andiamo avanti, spazio un po'. Non parlerò molto in questo video perché mi sono detto che urlo. Oh fattemi prendere la canna di bambù! Povero crema, e la canna di bambù era la mia. Come il mini-gun! Sam, spero che il primo video ti sia piaciuto. Sì, è molto divertito a farlo. Aspetta io non ce l'ho scudo, no, perché, ah giusto, ho dimenticato. Tennis. Eh vatti Zostra! Zostra, non in mezzo, volevo fare tipo... Eh, adesso c'è un tuo modo per non me lo prendere. Qual è la cosa divertente da fare? No, no! Sì, pazzo. Ciao. Peccato che non mi sono curato. Hai appreso pioggia, anch'io voglio pioggia, com'è che si fa? Anch'io voglio piovere. Eh, acqua e... Basta congelo che avevo. No, non acqua e ghiaccio. Acqua, aspetta, fammi vedere. Acqua e penso sia fuoco e ghiaccio. No, acqua e ghiaccio. Due volte acqua e due volte ghiaccio. No, scherzo. Oh, qua la gente... Cos'è che? Che figo è questo, lanci le... No, com'è che fai la pioggia, cremo? Ah, son morto! Com'è che fai la pioggia, cremo nero? Ok, acqua, fuoco, acqua. Ah, con fuoco e acqua fai la pioggia, bello. No, fai il vapore, tipo. Quindi fai fuoco, acqua, fuoco, penso. Qualcuno può essersi città, mi. No. Si aspetta, com'era? Eccolo. Bene, eccolo. No, allora. Ma... Ok. Aspettate, ragazzi, che qua mi sembra che c'era qualcosa. Congelo io, congelo io! Eh, non congelare noi, grazie. Ah, mi ci fa andare più di qua? Oh, strano. Yeeeeh! No, mi sono congelato il... Scena epica. Pian piano si congela. Ok, andiamo avanti, ragazzina. Questo è il bisogno qua, dovremmo uccidere, penso... Ci sono tanti golem, come si chiama? Goblin. No, no, non i goblin, ma anche i cosi grossi. Anche i go... Ah, sì, trolle, grossi. Così grossi. Guarda, c'è un pesce diverso. Mmm, questa sicuramente affumigliata. Non parlate con... No, io gli do fuoco. Il martello di torre, io voglio il martello di torre. E' vero. E' vero. Gram's Workshop, come quella di World of Warcraft. Quello stesso fonte. No, non qua di World of Warcraft, quella di Warhammer. Io compaio all'improvviso nel notare. Oh, ho chi, questi qua che sono le buse, ci seguono tutti quanti, eh. E' vero, se qua ci segavano, non era di solito. Allora, ok, già ho sbagliato. Ah, sti, non è così, c'è una cosa, c'è un martello. Dobbiamo far fuori... Oh, raga, che stai facendo fare? Sono morto. E' come è insicuro, eh? Cazzo, cazzo. E' come si scaso. Non mi ricordo come si fa. Tuono o cosa? Buonissimo. Davo all'improvviso. Tenete il mio martello di Thor. Assaggia il mio martello. No. Assaggia il mio martello, lo suonavo un po' ambigo. Ho gli shotta il martello. Come una spadaggia, giocheremo. C'è un samurai. E non curare i goblin, magari. Ahia, ahia, ahia. Ecco, fa pezzatamente. Ci lancia le bombe quattro entro, non è tardi. E' una trappola. Io sono morto di nuovo. Io sono morto di nuovo. I'm dead again. Again. Pura mi. Oh, che faccio così? Perché fate queste cose? Ma non lo sei schiacciato tenendo il mouse e muoio? No, così, cazzo. E' stai di cazzo. Ma l'altra non siamo stati noi. Revivami. Ma perché? Revivami. Come è che ha? Come è che ha? Revivami? No, è elettrovita. Muoviti. Ma mi levamita? Ah, aspetta. Non posso usare elettro. E' al contrario, è contrario, è unito elettro. Eh, non potevo usare elettro perché c'avevo l'acqua addosso. Ci ho messo in giro la campiera. Dai, riprendi questo martello e andiamo avanti. Oh, il martello! La pesa di merda! Dov'è? Ah, no. Volevo un vampiro, eh? Vivo. Ok. Non lanciare quel cerchio. Esatto, che poi muoio. Quello obiettivo. Che amo vuoi il maratello? No. Ah, ok. Perché tanto non te lo do. Mi mate, non lo intendo. Qua ci sono troppo, non lo ricordo. John, aspetta, aspetta. Lanciamogli subito un attacco. Ecco. Ahia, ahia, gazzate, bravo, mi è uccisa. Quasi ucciso. Al caneletro mi fa male? Sì, ma... Al caneletro mi fa più male, beh. Non mi cura. Sto laggandomi, so. Non mi cura. Ah, ok, adesso sì. Ma non diciamo fessere io. Poi vola. Non diciamo bagianati. Facciamo volare pezzi di tol. Ok, adesso dovrebbe uscirne un altro. Poi, non c'è la caverna. Poi, non c'è il po' di godo. Ragazzi, avete vedere una cosa divertente? Dai. E' questa. Ahia, ahia. Sono gacciato. No, guardi bello. Grazie, grazie. Oh, ma stai zitto. Ah, come facciamo fare gli attacchi, dai, tipo così? E poi così? Sì, tutte adesso. Ahia! Ahia! Oh, che adesso c'è l'assalto. Attaccate gli arcieri! Quindi io faccio così, poi io faccio... Oh, no, ma muoio sempre per un bello, eh. Grazie. Perché sei bugato. Sempre bugati, everywhere. Ad attacco con il samurai, con la spada. Cos'è la pioggia così, lol? Oh! Io lo spammo i dischi. Ho preso fuoco, ah! Ma c'è la acqua di... Agai! Ho presuscitato. Guarda le spade che baggateli. Rivivetemi. Rivivimi. Se non muoio. Non vuoi per usarlo, Eletra, perché sei bagnato, siete bagnati. Non potete farlo. Sono tutto bagnato. Ah, ok, raga. Hai un solito intimo. Aspettate, forse è di qua che si poteva andare. Lelu. Sì. No, ho sbagliato tasto ancora. Ok, ho fatto quello giusto. Questa spada la prendo io. Guarda, tanto io c'ho il martello. Cos'è che sono? No! Sì! E come lo spido. No, com'è che facevi a fare roba di veloce che non mi ricordo? Eh... ASF, poi gli spazio. Ah, grazie ASF. Ah, ok, ASF. E spazio. Watata! Bravo, poi nell'acqua che si muore. Eh, sono morto. C'è anche seppellito quel ghiaccio, guarda. Ok, dai, ragazzi, muoviamoci. Se no, se bisogna, da poco. Quella gente si annoia, ci insulta, io finisco lo spazio sull'hard disk. Esatto, non è un'altra cosa che mi registra, non funziona così. Yes, non è lol. E lo fa e così, e poi... Sata! Ah, perché quello... Ah, quel ghiaccio non lo segnava malato, la palla. Ah, non si uccidere tutti, che è un ghiaccio. Ah, va bene, dai. Va bene, non lo vedo io, neanch'io. Eh, va bene, non lo vedo io. Ma perché c'è un ghiaccio che saltellava? Non lo so, non lo so, sono misteri di magica. Ah, ma di là bisogna andare. Ma perché non viene curato Zoster? È un segreto. È un super segreto. Oh, cazzo. Allora, proviamo a fare una roba divertente tipo questo, questo e questo. Poi tipo spazio, no, allora. Ok, sono in ploso. Sì, la gente mi uccide. Che cazzo di cremo. Abbiamo poi perso il... Abbiamo perso il baston, il martello. No, il problema è che io ho perso la mia super sfada, cavoli. Ma perché mi ho perso i nostri ami, infatti? Eh, perché siamo morti. Ah, simone per diriammi loro. Oh, curatevi. Ah, è difficile sto frutto. Cioè, c'è, c'è il bordello. Curatevi bene, mettetevi tutti gli scudi possibili. E come che è il scudo di fuoco, mi farò. No, ho sbagliato. Cos'è quello di se me ha gas e usa mia mamma per cucinare. E' il gas che usa tua mamma per cucinare. Non lo faccio anche io il gas. Dai ragazzi, siamo arrivati alla conclusione. Calima, calima, calima. No, è più divertente quando ci va calima. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Dobbiamoci uccidere tutti, di base. E' il bastone. Spaccati tutti i cosi per cogliarmi corpo a corpo. Quindi non rischiamo di ucciderci. Ma caga, prendo il tomo, c'è. Non prendi il tomo. Ah, nullifica, ansia, non è più volato. Non mi guarda, com'è che funziona questo bastone? Eh, ti teletrasporta, ma è un po' stupido. Comunque cosa. Eh, ma come si fa? Eh, infatti ce l'hai te, ecco, vediamo. Come si fa? Beh, ragazzi, siamo arrivati alla fine del capitolo, penso. Non è vero. No? No. No, eccoli qui. Quindi, allora, questa è la fine. Sì, vabbè, questo è l'ultimo pezzo, no? Non mi guarda che un po' c'è quella specie di drago. Di drago? Anca perché mi suicido di base sempre, io muoio. Ecco, sbaglio pure i tasti. E' suscitatemi. Solti. Ah, mi segue. Ah, di nuovo la mia super spada. Buggi bugato. No, ragazzi, è in mente mi si è bugato Romino. Scuscitatemi, stolti. Again. Oh, sono in due. Aiuto, ragazzi. È una situazione critica. No, ma non lanciate. Non lanciate skill ad area, raga. Sennò, crepiamo ogni volta. Eh sì, io ti sto ad attaccare. Sì. La Wombo Combo. Wombo Combo. Oh, yeah. No, perché il suo di te l'ha tirato? Ma Buggi era tutto il resto di te. Zost, ero in silenzio, ormai. Non mi puoi parlare. Wombo Combo, congeliamolo. Eh, così dire. Lecce che non vi metti in quanto la picchia sangue per spada. Mamma mia, tons of damage. E io muoio. Cazzo di cremo. È peggio del baro, questo strancio. Madora, ecco, dentro c'è il Tomo. Non c'è il Tomo, Hawk. Oh, questa battuta era pessima. Tomo, Hawk. No, sì, infatti, meritò... Ok, va. Allora, ragazzi, tutti... Uno deve... Deve spinalo. Perché sono muo... È una più passiva. Morire è nato così. Spichisti da kill. No, ma non è che continuo morire a caso. E nasco e muoio. Forse ti ho ucciso io. Aspetta, Rienino Master. Lolli, c'è un mago congelato. Ma qualcuno mi lancia sempre l'eletto addosso. Ma non possiamo portarci fuori, sto tipo, o scappare direttamente. No. Sono morto. Fatevelo, uccidetelo. No, no. Aspetta, sto bruciando, eh. Anche io sto bruciando, però fa niente. Non ci ha curato di... Io non c'è neanche lo scudo. Non è esploso, fa niente. Io mi dimentico delle armature. Perché le... Emo, vedo, vi vado in altapato. E' freddo quello che l'hai visto io a freddo? Ragazzi, direi di... No. Di stoppare qui la puntata. Il serpentone lo facciamo la prossima volta, che dita. Cioè, adesso... Come no? Lo spazio sull'hardtisk è mio. E questo è bello. Facciamo un po' di piagerellina. Perché? Ma prima avevo una spada, adesso non... Ma il master? Eh. Cazzo mi è successo? Boh. E non sono ancora morto, eh, comunque. Ma una volta... Stai gocciolando. Master! Eh, eh, stavi gocciolando. Cazzo vuol dire? Averrò un giro mi curo, non posso curarmi. Dai, si è al pentone. Il serpentone adesso. Il biscione poi finisce la puntata. E mi ricorda quando l'avevo fatto tipo così a cavolo, master ti poteva fatto morire. Vabbè, meno male. Ma sto qua con me che bisogna ucciderlo. Eh, mi colpio solo la testa per quello dico, è un po' lungo. No, ci ho messo 5 minuti da solo in questo modo. Vlad... Eh, che gai. Potrebbe aiutarti, eh. Invece. Eh, non è una bambina. Ma aspetta, perché non posso prenderla la testa? E poi che deve tipo abbassarsi così adesso. Eh, si è avvelenato, curati. Curati. Non posso curarmi. Aspetta, no, raga. Dobbiamo piazzare tanti scudi. Così che appena si abbassa, vedi, gli fai danno. Ah, è vero. Ehm, scudo elettro arcano. Sulla fiducia, fai una roba del genere. Lo ho preso di culo, però lo ho preso. Ok, quello appena ti potete stare attaccando. Ahia, ahia. Che frustata. Naffili. No, perché avete fatto la mia unifica. Che ho fatto l'unifica? Io. Tutto, tutto coso? Te la fai spuntare fuori o perché no? Com'è che bisognava fare gli scudi così? Cremmo che li faccio sempre, ma ne dimentico sempre come si fanno. E con la terra e le altre elementi che li fa. Stiamo vagheggiando. Sto coso esce fuori. Goal. Aga. Eeeh, bella. Perché? Perché? Perché motivo? Sono morto. Rianima, rianima. Oh, arriverei. Che culo, ragazzi. Vai, attacca, muu. Grande coglione. Ai via. Ma perché non fai così? Vai che amore. Siamo molti tutti. Rianimaci, no. Rianimaci. Beh, dove c'è un troppo? E' morto, è morto. E' morto. No, 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 non è morto. Eeeh, evvivatemi, evvivatemi. Rivivimini. Ma pure non si vede più la salita. Ma come fa a fare le dritte così? Ma hai metto la spada? Oh, è morto. Ah, ma perché c'è la spada, ecco perché. Stato la battaglia. Sì, con due impugati riusciamo a vincere. Adesso muoviamo entrambi. Beh, ragazzi, direi di fare i saluti. Eeeh, ci vediamo con la prossima puntata di Magica. Ciao, GG. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.